Sarà una partita difficile quanto quella che è stata a Chiavari e il Teramo deve imparare soprattutto secondo me ad essere più cinico e a sfruttare le occasioni che crea perché dopo il calcio si sa come basta un episodio e la partita si gira. Quindi dobbiamo sfruttare qualsiasi occasione che ci capita, cercare di fare più gol possibile e poi come ho detto prima bisogna stare più attenti e cercare di risolvere quei problemi che abbiamo dimostrato di avere in queste palle inattive. Però penso che se giochiamo con coraggio e personalità la partita la possiamo comandare e spero di poterla portare a casa. L'anno scorso ho avuto qualche problema purtroppo però quest'anno anche tatticamente anche come idee il mister mi dà grande fiducia e io ho grande fiducia in lui perché lo ritengo veramente preparato. Quindi spero di dare continuità e di ripagare la sua fiducia perché io lo stimo tanto e poi provo a ripagare la sua fiducia, la sua stima. Grazie 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 Grazie